Scegli l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti per il tuo servizio civile. Occhi sul futuro. Un patto tra generazioni, unione, amicizia, inclusione. I nostri giovani in crescita insieme a noi per vivere esperienze ed emozioni condivise nella pratica sportiva, a scuola, in giro per la città, accanto ad un cane guida, nelle azioni di prevenzione, nella tutela dei diritti in tutti i momenti della nostra vita di ogni giorno. Scegli il servizio civile nella tua città presso le sedi dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti per vivere insieme a noi un anno indimenticabile. Sono Letizia, una volontaria dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Il mio percorso all'interno dell'Unione è legato a quello di Francesco. L'Unione è una grande famiglia e io sono felice di farne parte. Per presentare la tua candidatura visita la nostra pagina www.uici.it